buongiorno buongiorno a tutti alessandro buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video si torna a respirare l'aria di campo ieri c'è stata la prima uscita amichevole del del napoli contro la naune val di non solita sgambata contro questa squadra dilettantistica del trentino napoli che ha vinto 4 a 0 ma si vince si vince bene ovviamente è calcio di luglio non neanche calcio di agosto che uno è abituato a dire calcio d'agosto ma è calcio di luglio quindi parlare parlare adesso è veramente impossibile però ci sono degli ottimi spunti da poter analizzare dal primo dal primo punto è ovviamente il il cambio di modulo il 343 che si è visto con con ieri con la prima volta dopo anni comunque che giochiamo con la difesa 3 è vero che col mazzati quest'anno l'abbiamo provata un po però comunque il modulo fisso secondo me è quello è quello oppure 3421 dipende 3421 343 343 o 3421 è quello il modulo comunque io provenderei verso il primo perché è vero che c'è questa voce dello scambio raspadori chiesa però ovviamente prendiamo tutto con le pinze perché non ci sono ancora nessuna trattativa però se raspadori dovesse restare io punterei molto su giacomo raspadori che però deve agire dietro la punta è un ragazzo che può esplodere in questi anni ho sempre puntato su raspadori purtroppo è stato impiegato molto poco sia con spalletti sia con ma sia con mazzardi sia con garcia e sia con calzona però io punto molto su jack raspadori un giocatore che secondo me ha talento e ancora ne deve dimostrare ne deve dimostrare tanto tornando alle questioni di campo come abbiamo visto una sorta di 343 scusate un attimo 343 o 3421 abbiamo visto l'impostazione a 3 non mi è dispiaciuta anche come si dice racmanita centrale è andato abbastanza bene natan è entrato nel secondo tempo nei vari cambi che ci sono stati non mi è dispiaciuto neanche lui abbastanza molta personalità mi è piaciuto anche rafa marin rafa marin che un paio di lanci belli ha fatti sappiamo che la sua diciamo arma in più è proprio quella del cambio gioco del lancio sulla fascia c'è qualcuno che dice che mazzocchi ha giocato male mazzocchi sicuramente può migliorare deve migliorare però non ho visto questo brutto mazzocchi insomma mazzocchi che si inseriva che cavalcava molto la fascia soprattutto senza palla è un giocatore che secondo me sarà non dico al centro del progetto però comunque sarà molto utilizzato da antonio conte dall'altra parte al centrocampo c'era leo spinazzola è che vogliamo dire di spinazzola gol bravo gol primo gol tra l'altro dell'era contro l'ha segnato proprio il neo acquisto spinazzola che è in forma ragazzi è in forma è abbastanza in forma poi abbiamo visto nei giorni nelle varie dirette che sono state fatte sulle pagine del napoli e i carichi di lavoro sono molto molto pesanti ho visto gente che si lamentava al 43 eravamo ancora 0 a 0 la gente si lamentava ragazzi ma che cazzo ma che vi volete lamentare a parte che è calcio di luglio è la prima amichevole contro una squadra di tantissima ma i carichi di lavoro che fa antonio conte sono questo lo sapevamo già da tanto tempo i carichi di lavoro che fa antonio conte sono dei carichi di lavoro molto pesanti aspettate che vado a chiudere la porta vado a chiudere la porta è in diretta e non è una bella scena tra l'altro si schiatta di caldo ok dicevo che comunque i carichi che fa antonio conte comunque già di suo sono molto molto pesanti quindi le gambe sono pesanti e quindi c'era da aspettarsi che si partisse piano anche perché ripeto calcio di luglio amichevoli contro squadre direttantissime poi dopo domani ce ne sarà un'altra io sarò fuori dal 20 al 28 luglio quindi non registrerò video registro in caso dovessi tornare poi ci fossero delle voci ufficiali parlerò sicuramente però in questo momento non mi sento di di dare tanto in più insomma nel 343 si è visto anche l'instrom l'instrom che agiva insomma dietro la punta dietro simeone ragazzi simeone secondo me è arrivato io lo voglio bene è arrivato al punto di non ritorno però ma non tanto per la prestazione per le cose però veniva poco servito veniva poco incontro qualche gol l'ha sbagliato però questa è una cosa che passa comunque in secondo piano dato che è calcio di luglio però secondo me simeone è uno dei dei sacrificabili che comunque ci verrebbe a fare una bella cifra ecco perché comunque penso che almeno una decina di milioni ci potrebbe stare dai poi diciamo di l'instrom l'instrom è agito dietro la punta scusate e ha avuto qualche occasione ha approvato a farsi vedere io spero che un'altra opportunità gli venga data anche se comincio a titubare un po anche io su 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 questo ragazzo però comunque bisogna dargli spazio un po come raspatore un ragazzo che può dire la sua se bisogna se si trova la collocazione giusta nel nel campo se si riesce a trovare qual è il ruolo più congeniale per lui perché una delle domande che ci siamo fatti di più in tutto il campionato in tutta la scorsa stagione è stato proprio quale sia il ruolo di jesper linistrom e si spera di trovare una collocazione giusta per lui davanti abbiamo detto che c'era simeone non c'è stato simen per mal di parigi mal di parigi ovviamente in queste ore dovrebbe comunque chiudersi la rattativa con il pari d'angerman dovrebbe andare a parigi e il napoli proverà poi l'affondo per rome l'ulubaco che comunque a 25 milioni io alzo le mani ci può stare poi sono entrati gli altri nel secondo tempo è dato che dirà che secondo me può essere un buon rincalzo comunque ce l'abbiamo in casa il vice attaccante si è preso il rigore l'ha segnato e comunque si tiene 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 molto gli avversari tiene molto molto fisico è un attaccante che comunque come panchinaro ci sarebbe poi entrato mario rui che mi è sembrato abbastanza in palla sulla sinistra anche se anche lui è uno dei sicuri partenti perché ha detto che vorrebbe tornare in portogallo per chiudere la carriera quindi vedremo come sarà mario rui abbiamo visto qua jesus che il solito qua jesus quindi non è che diciamo diciamo niente è entrato osticard che stamattina dell'allenamento stamattina ha avuto qualche problema fisico è uscito si è fatto comunque medicare con lo spray e non mi è dispiaciuto neanche lui anche se deve migliorare deve migliorare ovviamente siamo in attesa dei vari nazionali dei vari caraschelia dei vari lobotca dei vari di lorenzo dei vari buongiorno che deve ancora arrivare arriverà nel ritiro di castel di sangro quindi ripeto è veramente veramente prematuro parlare adesso e che altro volevo dire che altro volevo a gaetano ragazzi gaetano gaetano è uno su cui punterei tantissimo il mister l'ha detto il caprile e gaetano sono sono comunque il remo non si non si muovono gaetano e caprile non si muovono caprile io sostengo che debba essere il titolare lo spero tanto perché è un buon è un gran portiere stato protagonista di una salvezza all'empoli empoli squadra distrutta completamente caprile comunque è stato protagonista è stato protagonista nel bari nella nella famosa stagione in cui il bari arrivò a 120 secondi dalla serie a poi purtroppo perse e al cagliari andò in serie a comunque caprile è stato protagonista anche lì spero che vivamente che sia il titolare perché mi dà molta molta più sicurezza in generale non sto parlando della partita di ieri perché ripeto parlare di calcio adesso è difficilissimo qua praticamente impossibile però non so quante volte ho detto però comunque caprile in generale mi dà molta molta più sicurezza rispetto ad alex meret con questo non sto dicendo che meret debba andare via perché una coppia con meret diciamo che ci può stare comunque caprile il titolare meret come come panchinaro ci può ci può stare vedremo quale sarà poi la scelta del mister è entrato anche contini ma contini è una cosa ormai in secondo piano terzo portiere non giocherà mai vabbè fu così che si fece tutto il campionato deve arrivare a centrocampo anche folorugio perché folorugio è un giocatore su cui io punto punto tantissimo un giocatore che secondo me con conte può diventare fortissimo come mezzala come può fare tanti ruoli a proposito di centrocampo parliamo di anghissa e cajust che sono stati elogiati da conte nell'ultimo nell'ultima conferenza stampa conte ha detto la coppia no anghissa cajust anghissa lobotica è una delle migliori in circolazione comunque anghissa bella partita è un centrocampo con cajust è tutto mazzate perché due giocatori veramente a livello fisico prettamente fisici a livello fisico molto prestanti buoni segnali anche da loro gaetano dicevamo gran partita gaetano ispiratissimo in questo ritiro ha fatto anche degli ottimi allenamenti ha segnato ieri gran partita la sua gran partita anche di siling gong che ha segnato però ha fatto anche paio di inserimenti movimenti è stato pericoloso bravo anche siling gong è un altro ragazzo che arrivato a metà stagione l'anno scorso però secondo me stava una staffetta con politano oppure un altro esterno magari ci potrebbe ci vorrebbe stare io lo terrei un altro poco siling gong e abbiamo parlato abbiamo detto le chiacchiere ormai dovrebbero stare a non stanno a zero ragazzi ormai è lungo è lungo ancora il ritiro è lungo ancora tutto è vero che il napoli comunque deve arrivare abbiamo detto delle gambe pesanti spero non li uccida perché veramente arriviamo a giocare ad agosto con la primavera perché veramente è vero che dobbiamo arrivare al top comunque nelle ultime nelle ultime diciamo inizio a inizio agosto perché noi cominciamo la stagione il 10 agosto con la coppa italia quindi voglio dire e la coppa italia è un trofeo che voglio portare a casa quindi possibilmente mister va bene le gambe pesanti va bene comunque lavorare a ma fatica però non mi uccidete i calciatori va bene quello che vi devo dire l'ho detto il chiaro ripeto calcio di luglio non parliamo adesso perché veramente è impossibile e speriamo che ci siano nuovi sviluppi a livello di mercato in questi in questi giorni in questi in queste settimane ciao